Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, noi siamo a pagina 428. Praticamente stiamo studiando, abbiamo letto per due settimane di seguito dei discorsi molto belli sui sogni di Yosef. Adesso andiamo avanti proprio sulla narrativa della storia. Siamo arrivati al punto dove Giuseppe racconta i suoi sogni ai fratelli e leggiamo adesso il passo numero 11, pagina 428, passo numero 11. E dice così, i suoi fratelli divennero gelosi di lui, mentre suo padre preservò il fatto, vuol dire, in memoria, il fatto, cioè, suo padre era conscio di questa cosa qua, che c'è un qualcosa che non va tra i fratelli. Preservò il fatto, era conscio, aveva in mente che qua c'è un qualcosa che non è molto piacevole. Allora, leggiamo il commento numero 11, divennero gelosi di lui. Il senso letterale del versetto è che la gelosia continua a risiedere nell'animo dei fratelli perché Iacov, il papà, non riuscì a contenere il loro timore e il loro risentimento. Alcuni commentatori tuttavia vedono nella gelosia un nuovo elemento nell'atteggiamento dei fratelli. Perché? Finora, infatti, la Torah aveva parlato solo di contrasti. Non diceva mai che i fratelli erano gelosi e quant'altro. Sì, c'erano dei contrasti, non di gelosia. All'inizio, quando lui cominciò a raccontare i sogni, i fratelli odiavano Iosef a causa della predilezione da parte di Iacov. Del fatto che Iacov, il papà, dava a lui la prediletto, lui dava più cure, importanze e contatto. Questo era già il motivo in sé per sé, a prescindere dai sogni. Prima ancora dei sogni, già lui non era ben amato perché Iosef, perché il papà gli dava troppe attenzioni a lui. Contesemente mettiamo in muto, grazie. All'inizio i fratelli odiavano Iosef a causa della predilizione da parte di Iacov, ma non ne erano gelosi. Quindi, attenzione, finora ce l'avevano su con lui per via del papà, ma la Torah non parla di gelosia fino a questo momento qua. Perché lo consideravano ancora un bambino, era un ragazzino davanti a loro, era più giovane di loro e non lo percepivano come una minaccia. Ma, da uomini saggi e intelligenti, come erano, quando ascoltarono i suoi sogni e ne capirono il significato, il loro comportamento si mutò da odio in gelosia, poiché compresero che la fonte dei sogni era divina. Tutto quello che lui aveva sognato, che loro si sarebbero inchinati a lui, eccetera, loro hanno capito in realtà che era una sorta di profezia. E allora hanno cominciato a essere gelosi di lui. Sarebbe davvero diventato il loro padrone e perciò se ne ingelosirono. Tutto quello che loro sentivano da lui accendeva in loro come una campana, come un allarme. Attenzione, sappi che è loro, che lui diventerà il vostro padrone. Sempre di seguito, che il papà preservò il fatto in memoria, nell'impaziente attesa che si realizzasse. Cosa vuol dire? Questo è quello che Rashi dice, no? Il Rebbe di Lubavir spiega quali erano i due motivi per cui Iacov aspettava con tanta ansia la realizzazione del sogno del figlio. Allora, come mai Iacov aspettava così, con ansia, che i sogni di Iacov diventassero realtà? Allora, il primo spiegazione è, gli altri fratelli avevano scelto la pastorizia allo scopo di isolarsi dalle distrazioni secolari per servire Dio nel migliore dei modi. Cosa vuol dire qua? Qua adesso questo pezzo, il Rebbe qua spiega la diversità di veduta del mondo, il modo di vedere di Yoko, di Yosef e dei suoi fratelli. Come loro erano completamente diversi opposti nel loro modo anche di intraprendere la Torah, la religione ebraica. Allora, qua dice, tutti gli altri fratelli al di fuori di Giuseppe avevano scelto di essere dei pastori. Perché un pastore? Perché tutti, infatti, quando poi in futuro scenderanno in Egitto, Giuseppe stesso dice a loro, il faraone vi chiederà chi siete, cosa siete, dite a loro che tutta la vita eravate dei pastori, così vi darà anche Goshen, questo paese distaccato, che potete continuare a essere pastori, lontani dalla metropoli, dall'Egitto e così via. Perché? Perché dal loro modo di vedere, una cosa molto particolare, che per essere un saddico, per essere un bravo ebreo, per essere connesso con Dio, devi essere distaccato dal mondo. Infatti il pastore cosa fa? Sta in montagna, distaccato dalla metropoli, dalla città, dalle persone, non c'è nessuno. Sta lontano dal peccato, sta lontano da tutto, distaccato totalmente. Cosa fa un pastore? Ma c'è parte del tempo, mentre le egregie pascolano, medita, pensa a Dio, pregano, fanno cose spirituali. Ecco, tutto bello, tutto nobile, tutto fantastico, solo che loro erano limitati in questo modo di servire Hashem. Perché prendi queste persone e le metti al di fuori dal loro habitat, magari non sono capaci di fare, di connettersi con Dio. Perciò, se ci lasci in montagna, se ci lasci in un posto distaccato, con nessun tipo di ezerarani, nessun tipo di niente che ci possa deviare da Hashem, allora siamo di granizza di Kim. Ma se ci metti in città, magari non siamo capaci di essere abbastanza forti da comunque essere connessi con Hashem. Cioè, loro dicevano, noi per essere bravi, per essere connessi con Dio, dobbiamo essere staccati totalmente dal mondo. Non vogliamo avere a che fare con la città. Noi non diamo fastidio e nessuno ci dà fastidio. Va bene, è un livello. Ma non possiamo dire che è il livello finale, che è quello che veramente tutti noi dobbiamo aspirare. Perché, alla fine, è un sogno quello di vivere in montagna, staccati sui monti. Ok, noi viviamo in città, noi abbiamo a che fare ognuno ogni giorno con lavoro, con una carriera, con un studio, con le persone, con il seraraco, con i cartelloni, con tutto, no? Cioè, non possiamo nasconderci per dire io mi nascondo per non guardare niente di sacrilegio. Fa parte della vita vivere in una città. Ok, perciò loro volevano scappare dalla realtà del mondo, scappare ovviamente per un nobile motivo, per essere connessi con Hashem. Yosef, invece, era in grado di vivere all'interno del mondo secolare, rimanendo integro nel suo operato spirituale. Yosef, e da qui nasce Yosef Hadzadik, era così elevato che non aveva bisogno, come i fratelli, di scappare dalla realtà del mondo per rimanere integro. Yosef era capace di vivere all'interno del mondo reale e di rimanere integro. Infatti, l'Egitto cos'era? Era il posto più caotico all'epoca, era come l'America dell'epoca. Era il posto più infimo, moralmente parlando, Ervata Arez. E lui che cos'era? Era il vice re di questo paese. E lui tutto il giorno commerciava, comprava, vendeva, gestrava l'Egitto. Eppure Yosef era riuscito, nonostante tutte le difficoltà del caso. A parte il fatto che era da solo, non aveva neanche una comunità che lo sosteneva, non aveva parenti, genitori, nessuno. E in più era nel letto dell'impurità dell'Egitto e comunque tutto il giorno lui faceva commercio. Eppure lui era un tzaddik. Cioè, aveva tutti i punti contro di lui. Tutti i punti che lo facessero fallire nella sua bravura, nel suo essere pio e saggio e tzaddik. Eppure, no, lui era riuscito comunque a mantenere la sua spiritualità, perché lui era totalmente diverso dagli altri fratelli. Attenzione, i fratelli avevano un buon... l'idea era giusta. Noi vogliamo rimanere fedeli a Dio. Ma fa vedere la debolezza interiore. Uno che vuole scappare dalla realtà della vita per dire, io servo Hashem perché sono qui. E se un giorno non potrai più vivere con le pecorelle in montagna, cosa fai? Ti perdi, infatti, quello che è successo. E quando loro sono scesi in Egitto, pian piano, pian piano, pian piano, gli ebrei si sono persi. Si sono assimilati. Sì che è successo dopo che loro sono morti, è vero. Però un ebreo che è errante, visto che il nostro... Finché siamo in diaspora, in giro per il mondo, finché non arriva Masia, che siamo appunto destinati a vivere in mezzo alle nazioni e in tutta parte del mondo, Un ebreo oggi non può più permettersi di dire, ah, io mi riparo, sto soltanto in posti lontani, in posti... non sempre è possibile. Non sempre si può vivere a Gerusalemme o a Benebraco o in un posto dove vedi soltanto Torah e Mitzvot. Perciò un ebreo, così come ogni persona, deve essere pronta a vivere anche in luoghi ostili, dove in realtà il posto ti trascina a fare cose sbagliate, però tu devi comunque essere capace di trattenerti nonostante tutto quello che è l'entourage che ti sta accanto. Giacob quindi aspettava con impazienza la realizzazione dei sogni di Giuseppe. Perché? Per cui i fratelli gli sarebbero stati sottomessi. Questo sogno di Giacob aveva un'importanza, non era soltanto un sogno di un ragazzino che voleva, no, Giacob era un saddick che non voleva sottomettere i fratelli e così via. Solo che, solo che, Giacob, il papà, sapeva della differenza di vedute e del modo di essere di Giuseppe e dei fratelli e allora cosa fa? Lui dice aspettava il momento che Giacob, aspettava il momento che Giuseppe potesse diventare il leader dei fratelli, nonostante fosse il più piccolo, perché il papà vedeva in Giuseppe la figura giusta di come vivere nel mondo, non scappando dalla realtà, ma andando dentro la realtà del mondo, lavorando, facendo eppure rimanendo. Perciò lui ha detto, così come sono gli altri miei figli, sono dei saddickim un po' deboli, perché appena c'è difficoltà loro magari si fanno male, cadono. Invece, se Giuseppe, col suo modo di essere, che è anche più elevato, con le sue larghe vedute che lui aveva, allora mi auguro che al più presto i suoi sogni si realizzino, ovvero che lui possa essere il leader spirituale dei suoi fratelli, affinché lui possa insegnare anche a loro come poter vivere nel Galut, nella diaspora. Chiaro? Ok. Affinché anch'essi beneficiassero, almeno in parte, dell'eminenza e della forza spirituale del giovane fratello. Perché, abbiamo spiegato anche l'altra volta, no? Il leader dà forza al popolo. Mosè dà forza al popolo. Abramo, Isacco e Giacomo davano a loro volta forza al loro popolo. Perciò il leader spirituale non è soltanto una guida da seguire, ovviamente sì, ma lui con la sua grandezza, con la sua elevazione, riesce anche a emanare. E fede e potenzialità al popolo. Perciò così, pensando, dice, ah, spero presto che succeda questo. Così anche gli altri figli, quando andranno in diaspora, potranno mantenersi forti. Perché prenderanno forza da Yosef? Perché lui sarà il loro capo, il loro leader. Solo così, infatti, le tribù avrebbero avuto la forza di affrontare le difficoltà dell'esilio. Questo è quello che papà pensava. Questa è la prima spiegazione. Secondo punto. Jacopo aspettava con impazienza il Mashiach ben Yosef, che era il Messia figlio di Yosef, precursore del Mashiach ben Davide. Perciò Jacopo voleva affrettare, voleva che venisse presso Mashiach, e lui sapeva che prima che venisse il Mashiach, che è figlio di Davide, comunque della stirpe di Davide, prima doveva venire il Mashiach, appunto figlio di Yosef, della discendenza di Yosef. Perciò lui era lungimirante, voleva anche che la redenzione finale avvenisse il più presto possibile. Ok, andiamo avanti. Passo numero 12. I suoi fratelli di Giuseppe andarono a Shechem a pascolare, appunto, il gregge del padre, perché a Shechem c'era tanto posto dove pascolare, loro andavano lì. Commento 12. I suoi fratelli andarono a Shechem. Questo versetto apre la narrazione di uno degli eventi più complessi riportati dalla Torah. Da qua comincia la storia dell'Esodo, la storia, perdono, del Galut, della diaspora. Da qua. La quasi uccisione di Yosef e la sua vendita come schiavo da parte dei fratelli. Infatti tutto questo ha cominciato la diaspora, il Galut. E' ovvio che questa vicenda non possa essere intesa solamente superficialmente. Il fatto che i fratelli hanno venduto, hanno quasi ucciso. Non possiamo leggerla così, senza analizzarla, senza spiegarla, senza commenti. Poiché i figli di Jacob erano tutt'altro che una banda di rapitori o di assassini capaci di uccidere a sangue freddo per una tunica. Soltanto perché papà aveva dato a Giuseppe una tunica colorata. Cioè, non può essere. Stiamo parlando non di banditi, ma di Zadichie. E allora, ogni cosa che è scritta in questa faccenda, come loro volevano ucciderlo, eccetera, ovviamente va vista con delle spiegazioni più dirette. Perché quindi vendettero Giuseppe? Se veramente tu ci vieni a dire che loro non sono dei banditi, eccetera, perché allora volevano uccidere il loro fratello a sangue freddo? Dove sta la spiegazione in tutto ciò? Sforno spiega innanzitutto che Sforno è un commentatore. Anni dopo, quando erano stati trattenuti in Egitto e avevano esaminato le loro azioni per vedere per quale motivo Hashem li avesse puniti, praticamente quando arrivano incontrano Giuseppe, e Giuseppe non si è ancora rivelato a loro dicendo che è il fratello. Tutta la storia che Shimon viene messo in prigione, la coppa nel sacchetto di Benjamin, tutte quelle cose che faceva il fratello per il piano che aveva, a un certo punto i fratelli si accolgono che qua c'è qualcosa che non va, che Dio ci sta punendo. Questo è quello che dicono. Dicono, avala shemim manachnu. Vedete? Noi siamo colpevoli. Quando dicono, e appunto questo è quello che sta raccontando qua, non trovarono nella vendita stessa alcun motivo per provare il rimorso. Quando loro dicono siamo, Hashemim, colpevoli, loro non dicono siamo colpevoli di avere venduto il nostro fratello. Loro dicono siamo colpevoli di non aver ascoltato il nostro fratello quando ci implorava di salvarlo o di non venderlo. Semplicemente loro dicono abbiamo sbagliato a non ascoltarlo. Ma non dicono abbiamo sbagliato a venderlo. Cosa vuol dire questo? Cioè, nel momento quando quando loro vedono che Dio li sta punendo, dicono, ah, vedete? Dio ci punisce. Ma di chi cosa? non del fatto che l'abbiamo venduto, ma del fatto che non abbiamo dato retta al nostro fratello quando ci implorava. Essi, ascoltate, essi consideravano quell'atto severo ma non sbagliato. Vendere il fratello non era per loro un atto sbagliato. Infatti, neanche anni dopo lo dicono. Quando dicono ammettano di aver sbagliato e non sbagliato su quacus'altro, non su averlo venduto. per questo nel corso del commento bisogna prestare attenzione agli indizi che aiuteranno a capire l'intera vicenda. Non so se ho reso l'idea. Anche anni e anni dopo quando loro dicono ah, siamo colpevoli. Di che cosa siamo colpevoli? Non di averlo venduto ma di semplicemente di non averlo ascoltato. Prestato attenzione quando lui ci implorava. La vendita è sé? No, quella era giusta. In generale si spiega che i fratelli adesso qua spiega il perché cosa loro avevano in mente quando l'hanno venduto. Si spiega che i fratelli consideravano Yosef una minaccia non tanto per loro stessi quanto per il destino della famiglia. sapevano infatti che il processo di eliminazione cioè di ucciderlo che aveva bandito Ishmael ed Esav dall'elezione di Israele. Loro dicevano eh, anche Abramo ha dovuto mandare via Ismael di casa. Anche Esau figlio di Isacco anche lui era un malvagio che doveva essere allontanato. infatti Giacobbe l'ha allontanato anche quando voleva riapacificarsi. Perciò loro sono persone che devono essere cacciate via dal popolo ebraico per l'integrità del popolo. Avrebbe oltrapassato la loro generazione vuol dire loro dicevano eh, anche noi abbiamo qualcuno da far fuori da eliminare così come il nono ha eliminato Ismaele e lo zio ha eliminato Esav noi abbiamo anche noi una pecora nera chi è? Giuseppe dobbiamo eliminarlo perché lui è un pericolo per il popolo ebraico. Che pericolo aveva lui? Era il suo modo di vedere troppo le sue vedute troppo larghe erano quelle che facevano paura quello che abbiamo spiegato prima. Loro vedevano che soltanto chi è bianco e nero può essere un bravo tzaddik un bravo chassid un bravo ebreo soltanto se sei in montagna cosa? Andare in Egitto lavorare commerciare vendere avere a che fare con gli egiziani con gli idolatri un ebreo non può vivere in un posto del genere questo è il loro pensiero invece Yosef era così tanto di larghe vedute ma nel modo giusto però che loro lo vedevano come un riformato come qualcuno che rovinerà il popolo ebraico che porterà l'ebraismo a delle riforme a dei cambiamenti a mischiarsi con le altre nazioni da come lui era così una persona aperta moderna scusate cos'è Itbolelut? Itbolelut vuol dire assimilazione ok grazie perciò loro vedevano in lui una minaccia per l'ebraismo non capivano che lui era anni luce avanti a loro infatti la famosa tunica che cos'era? era diversi colori multicolor multicolor cosa vuol dire? vedere il mondo in tutti i suoi aspetti non soltanto bianco o nero non so se rendo loro erano come quelli che o i bianco o i nero non c'erano i colori intermedi Giacobbe e papà vedendo la differenza tra Giuseppe e gli altri fratelli solo cos'è mancavano vestiti speciali a Giacobbe perché a loro non ha dato i vestiti multicolor e invece a Giuseppe sì perché loro non erano multicolor loro erano o bianco o nero multicolor vuol dire avere delle vedute vedere il mondo nella sua interità nella sua interezza come si dice nei suoi vari colori prendiamo un come si chiama quando fai un mosaico cos'è un mosaico prendere tante cose di colori diversi e di forme diverse metterle insieme e fare un'opera unica questo era Giuseppe era capace di vivere nel mondo prendere tutti i colori del mondo e fare un Torah Mitzvot per Hashem gli altri erano come quei chassi di di Gerusalemme bianco nero non possiamo dire che è sbagliato poverini erano brava gente volevano intendevano giusto ma erano limitati un ebreo non può permettersi di essere limitato perché? perché se tu sei buttato nel mondo in mezzo agli altri popoli e devi vivere in mezzo a Roma per esempio noi che siamo in Italia che dobbiamo vivere sotto il dominio di Roma con tutto quello che rappresenta non possiamo essere chiusi quadrati dobbiamo essere di larghe vedute perché se no ci perdiamo immediatamente se i fratelli Giuseppe fossero vissuti a Roma in Italia non avrebbero resistito neanche un attimo perché quando loro non hanno il loro habitat chiuso sigillato e con la sicurezza loro si trovano male Yaakov papà dicevano purtroppo questi figli qua saranno loro un pericolo visto che stiamo che sta visto che Dio ha detto ad Abramo che ci sarà un esilio che gli ebrei saranno mandati via da Israele e così via come poi è successo ma se loro andranno soltanto bianco e nero sarà la fine per l'ebraismo bisogna andare con l'ottica del multicolor con l'ottica di Giuseppe allora spero che al più presto Giuseppe diventi il loro capo andiamo avanti nella nota dove ci siamo fermati perciò questa era la minaccia che loro vedevano nei fratelli essere troppo aperto larghe vedute i discendenti di Yaakov avrebbero dovuto essere perfetti tutti affinché si potesse realizzare la missione dei patriarchi causando dissensi all'interno della famiglia adesso qua sta parlando sta spiegando di nuovo il ragionamento dei fratelli no? Giuseppe Giuseppe avrebbe sgretolato questo potenziale con conseguenze molto gravi noi siamo tutti in un modo arriva a lui e tutto diverso no? egli avrebbe quindi dovuto essere pregiudicato come traditore è pericolo per tutti loro cioè lui era la pecora nera secondo lui secondo loro era quello che porterà se noi diventiamo se noi lasciamo che i nostri figli seguono lo zio o un futuro gli ebrei seguono Giuseppe sarà la fine dell'ebraismo qualcuno su questo punto ha da chiedere o da dire qualcosa? io sì prego allora lei sta dicendo una cosa molto interessante però la mia domanda è oggi ebrei ortodossi ortodossi vivono come i fratelli di Giuseppe perché non si mischiano e non vogliono avere che fare e è giusto non è giusto no? è giusto come viviamo noi in mezzo e altro non c'è giusto non giusto loro finché possono permetterselo buon per loro sono a Gerusalemme posso permetterselo noi che siamo qua non dire che adesso dobbiamo aprirci e fare noi dobbiamo è la mentalità è il modo di vedere le cose noi non dobbiamo andare a fare un scontro contro il mondo non dobbiamo prendere il mondo non dobbiamo influenzare il mondo non scappare dal mondo però come viviamo noi non è più ricco perché è più difficile fare le mitzvot come viviamo noi perché stiamo insieme agli altri non siamo chiusi a Mea Sharim per esempio ok quindi non è più diciamo più importante più produttivo più illuminante noi abbiamo più prove ovviamente è più difficile essere in diaspora e comunque continuare adesso ed è questo il punto Giacobbe vedendo questo diceva solo Yussef potrà salvare se oggi noi riusciamo a vivere in Italia o dovunque siamo è perché abbiamo avuto l'impronta di Yussef che Yussef era questo viveva in Egitto ed era un tzaddik perfetto pur essendo un commerciante i suoi fratelli al posto suo non sarebbero stati capaci di essere anche commercianti anche salvare l'Egitto e anche rimanere tzaddikim loro erano troppo chiusi non possiamo dire che è sbagliato bravi uno che riesce a chiudersi nella Torah e non uscire da Gerusalemme buon per lui però tutti gli altri noi che siamo sparsi nel mondo come facciamo a vivere? non è questo che Dio vuole da noi lui preferisce che noi viviamo in mezzo lui preferisce che arriva Mashiach oggi stesso e tutti siamo a Gerusalemme e tutti siamo come si deve nel frattempo che si avvererà questo sogno che Mashiach arriva per forza di cose noi siamo sparsi nel mondo perché siamo sparsi nel mondo? non perché non c'è posto in Israele perché abbiamo una missione da compiere ognuno dove si trova nel mondo delle famose scintille di santità di riportare eccetera eccetera perciò finché Mashiach non è arrivato Dio necessita che noi siamo tutti sparsi nei quattro angoli del mondo per operare per fare per illuminare il mondo allora cos'è l'ottica di farlo? l'ottica è che tu non ti puoi chiudere dentro di te devi aprirti sempre con sicurezza attenzione non fraintendete le mie parole che adesso diventiamo tutti dei come si chiamano dei riformati bisogna oggi no bisogna rimanere chassidin rimanere ultra ortodossi però non soltanto vivere in noi bisogna aprirsi perché il mondo ha bisogno della nostra apertura affinché noi riusciamo a portare il mondo dalla parte giusta perché se tu ti chiudi in te stesso e non operi sul mondo il mondo va alla rovescia il mondo ha bisogno che tu guidi il mondo ma se sei bianco o nero non puoi guidarlo il mondo perché tu il mondo lo schivi lo eviti loro il mondo lo evitano per non farsi del male Giuseppe il mondo lo vive e riesce anche a condurlo e a indirizzarlo nella strada giusta Ravmichi Ravmichi ma appunto per quello il Rebbe andava Shul Kim in tutto il mondo non li teneva a Brooklyn tutti quanti esatto Giuseppe andava in India in India dove ci sono idolatri al massimo cioè statue robe dappertutto tutti questi emissari del Rebbe sarebbero tutti comodi a Gerusalemme chi ce lo fa fare invece quelli vanno in Ucraina e quelli vanno in India perché? perché se stai a Gerusalemme a pregare a studiare non stai portando il mondo a una redenzione siamo noi che dobbiamo portare il mondo a un stato di redenzione non è un regalo che Dio deve farci noi dobbiamo redimire il mondo e redimire il mondo non riesce a farlo soltanto pregando studiando a Gerusalemme certo è importantissimo infatti una fetta del lavoro lo fanno anche loro ma la più grande parte del lavoro lo facciamo noi che siamo sparsi nel mondo sono tutte e due importanti però oggi giorno c'è affrontare il mondo in qualche modo anche diciamo l'idea di adesso farsi le ossa cioè nel senso che se tu non vai mai sarai sempre più debole in qualche modo e ti autolimiterai invece se tu con la tua consapevolezza affronti le cose diventi capace diventi più forte tu esatto e rafforzi anche quello che ti sta intorno a te il mondo esatto esatto andiamo sempre torniamo giù al commento la penultima riga che loro andarono a Shchem i fratelli città circa a 80 chilometri a nord di Chevron data l'aggressione Shchem dove era era dove i fratelli avevano ucciso quella famosa storia che avevano rapito Dinah e poi loro avevano ucciso tutto il posto ecco loro sono tornati lì a Shchem a a fare il a portare il gregge data l'aggressione dei fratelli contro Shchem nel capitolo tre capitoli fa si potrebbe pensare che farvi il ritorno fosse un gesto temerario da parte loro cioè voi tornate sul posto sul luogo del delitto i vostri due fratelli hanno ucciso tutti e voi ci ritornate essi però riposero fiducia in a Shchem che già in passata aveva fatto sì che gli abitanti della regione li temessero perciò tornarono però avevano fiducia in a Shchem potrebbe anche darsi che l'accaduto fosse ormai stato dimenticato perciò se uno si chiede com'è possibile che loro tornano a Shchem uno o forse si sono dimenticati due noi abbiamo fiducia in Dio così come ci ha portati in passato ci proteggerà anche adesso tredici Israel Israele qualcuno ha fatto un atteso Israele disse a Yosef perciò Giacobbe dice a Giuseppe i tuoi fratelli sono a pascolare a Shchem va ti mando da loro ti mando da loro e Yosef gli disse eccomi i neni adesso vogliamo di capire cosa vuol dire questo questo passo leggiamo il commento tredici Israele disse mandando Yosef a compiere questa missione fatale perché lui rischiava la vita perché andava nella fossa dei leoni che segnò l'inizio dell'esilio egizio Yacob viene chiamato Israele ricordate Yacob ha due nomi il suo nome classico Yacob e il nome che l'angelo gli ha dato Israele qui in questo passo non viene chiamato Yacob viene chiamato Israele nome che riflette la sua più alta natura spirituale come architetto del destino del popolo ebraico perciò in questo momento lui viene chiamato Israele che è il livello più alto perché lui adesso vedremo il perché Giuseppe risponde inemi eccomi questo eccomi è un'espressione che indica modestia e rapidità agli ordini capo eccomi qua e l'altro lo vediamo diverse volte perciò modestia e rapidità nell'eseguire la volontà di chi è superiore in questo caso il papà Yosef si affrettò a eseguire quella di suo padre benché conscio dell'odio dei fratelli e quindi del pericolo a cui andava incontro Giuseppe sapeva benissimo che i fratelli lo odiavano o che erano gelosi finché sono in casa davanti a papà non faranno niente di male ma sono lontani papà non ci vede se io vado lì potranno uccidermi o farmi del male Giuseppe lo sapeva benissimo che andava incontro a un pericolo eppure si è andato perché perché papà mi ha chiesto leggiamo quel quadro lì scintile di Hasidut vera grandezza eccomi questa famosa parola che dice Giuseppe Rabbi Bune di Pshisca commentava così le parole di Yaakov in questo modo due punti Giuseppe va a cercare la pace va a cercare la pace dei tuoi fratelli perché in ebraico dice vai a vedere come stanno i tuoi fratelli Shalom vuol dire anche stare come stai ma shalom ha come il tuo shalom come ti senti allora in ebraico in italiano è un po' difficile capirlo vai a vedere il shalom dei tuoi fratelli vuol dire la salute dei tuoi fratelli questo è l'ebraico perciò va a cercare la pace cioè il shalom dei tuoi fratelli ovvero come stanno però qua c'è qua c'è sta dando una spiegazione chassidica non soltanto non andare soltanto a vedere come stanno vai a cercare la perfezione la perfezione dei tuoi fratelli le loro qualità e la loro perfezione le mut e non i loro difetti Giuseppe guardi i tuoi fratelli con un occhio positivo cerca di vedere non soltanto i difetti ma le loro buone qualità così viene anche commentata la massima del Talmud il sole non ha mai visto i difetti della luna cosa vuol dire? colui che è veramente grande come il sole non ha bisogno di cercare i difetti e le imperfezioni di chi è più piccolo di lui ovvero la luna così parole di di chassidut siamo arrivati adesso al passo 14 giriamo la pagina pagina 430 Jacob gli disse va per favore a vedere come stanno ecco qua lo vediamo va per favore a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il gregge e riferiscimi la cosa adesso qua vedremo dei commenti che vedremo che sono delle parole a priori scritte superflue nel testo ma noi quando leggiamo non lo capiamo da soli soltanto dopo che leggiamo i commenti capiremo come i commentatori veramente sono capaci di prendere anche la frase più semplice e trovare un insegnamento ok va per favore a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il gregge e riferiscimi la cosa lo mandò dalla valle di chevron e Giuseppe giunse a Shechem dove erano i suoi fratelli ok 14 come sta il gregge è normale che ci si interessi al benessere dei figli ma perché ha quello del gregge cosa vuol dire che il papà dice a Giuseppe vai a vedere come sta il gregge ciò prova che ci si deve preoccupare per qualunque cosa da cui si tratta beneficio cioè sostentamento parna sa vuol dire una persona non deve dire ah io sono super elevato sono super spirituale non mi interessa del mio gregge non mi interessa dei miei soldi in banca io sono connesso con Dio no no calma calma sei connesso con Dio ok ma vivi in un mondo materiale hai dei bestiame devi curarlo no devi sapere come sta perché questo bestiame ti dà sostentamento ti deve mangiare da bere da vivere Rabbi Haibu diceva che si deve pregare anche per la salvaguardia di ciò che provvede alle proprie necessità poiché Yaakov usufruiva delle pecore bevendone il latte e indossandone la lana doveva interessarsi al loro stato perciò puoi essere un super tzaddik ma comunque devi continuare a preoccuparti della tua vita materiale in questo caso anche degli animali poi quando dice vai e torna e riferisci cosa succede riferiscimi la cosa sempre nel commento avanti Yaakov sapeva che i fratelli papà sapeva che i suoi figli odiavano Giuseppe e temeva che accadesse qualcosa a Yosef cioè aveva paura per la sua vita anche Yaakov era conscio del fatto ma poiché coloro che vengono inviati a compiere una missione di mitzvah non conoscono danno il Talmud dice una persona quando va a fare una mitzvah non viene danneggiato non conosce danno vuol dire non si fa male infatti c'è questa usanza che quando una persona va in viaggio gli si dà un dollaro un euro quello che sia una moneta e gli si dice quando arrivi a destinazione metti questa moneta in sedaka in questo modo noi cosa facciamo stiamo auspicando che questa persona che va in viaggio va per la missione di portare la mia moneta in sedaka in quella città perciò il suo viaggio sarà protetto il suo tutto il tempo che sarà via sarà protetto perché è una mitzvah di portare solo in sedaka perciò papà sapeva che lui era in pericolo però cosa ha fatto l'ha mandato in missione ascoltare le parole di papà è una mitzvah 11 comandamenti rispetto a tuo padre e tua madre allora era abbastanza sicuro del fatto che la protezione di Dio sarebbe stato Giuseppe per il fatto che andava a fare la mitzvah di ascoltare quello che papà gli sta chiedendo di fare però attenzione Jacopo poteva essere tranquillo che osservando la mitzvah del rispetto del papà Giuseppe sarebbe rimasto illeso ok ma la garanzia sarebbe valsa solo per l'andata perché tu vai a fare la mitzvah di ascoltare papà perciò ok Ashen ti protegge ma solo all'andata quindi affinché il ragazzo fosse protetto anche sulla sua via del ritorno Jacopo gli ordinò qualcosa in più cioè torna e riferisci mi la cosa vuol dire che gli ha dato una mitzvah andando e una mitzvah anche ritornando per la quale anche il suo ritorno aveva avuto una mitzvah quale di raccontare a papà che papà ti sta chiedendo scusi questo però poi non si è verificato brava aspettavo questa domanda e invece sì perché è rimasto in vita anzi anzi però che sì ma lo rispondiamo però gli dice quella del ritorno ritorna riferiscimi no non è tornato per riferire però non è morto comunque io aspettavo da Anna questa domanda Anna dove sei ti fai fregare le domande sotto il naso Anna aspettavo non volevo essere sempre io ok ok il resoconto Rav la cosa interessante invece è i neni perché Avram Avinu lo dice due volte con la legatura di Zag perché gli aveva chiesto a Shem invece in questo caso chi lo chiede è il padre però sempre di padre si tratta giusto finiamo nel commento dice il resoconto fa anch'esso parte della mitzvah che lui va a raccontare e quindi anche al ritorno sarai protetto sì lei ha ragione diceva però il disegno di Hashem era comunque un altro cioè io posso dare a ogni persona che viaggia una moneta da portare come scegliere Mitzvah vai dove vai ma sono successi anche delle volte che immagino che qualcuno ha fatto questa cosa e comunque si è fatto male cioè attenzione un conto è una segula come si dice un secolo in italiano una come una prova una no una 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 auspicio un conto è fare un qualcosa che possa avere un buon auspicio per il bene ma non è detto per forza che sia sempre così come noi vogliamo o pensiamo cioè se no il mondo non avrebbe più prove non ci sembra più se tutto fosse automatico e allora ogni volta che mi faccio da casa non muoio mai allora vivo in eterno e allora anche gli shluchim che sono andati quelli che sono andati e poi dopo li hanno ammazzati dovevano invece e capita quello che dico esatto non c'è la la perfezione la sicurezza totale perché se no non sarebbe vita la vita è che ci sia il libero arbitrio che ci siano anche dei dei fuori onda no così c'è dei fuori cosa che succede non dovendo succedere dei fuori programma fuori programma non fuori onda fuori programma esatto perciò sì di base doveva tornare indietro ma c'è fuori programma perché perché Dio ha voluto che lui arrivasse in Egitto il fatto che Iacov che Giuseppe viene venduto e mandato in Egitto era già tutta una cosa prestabilita da Dio perciò per quanto era protetto nella sua strada data ritorno con papà ha pensato ma in realtà Dio aveva pensato qualcosa Dio aveva già pensato che lui doveva andare a finire in Egitto per cominciare il Galut la diaspora perciò è vero era protetto ma proprio perché era protetto Dio l'ha mandato a fare quello che Dio voleva che succedesse come il discorso dei biglietti della lotteria che comunque alla fine che avevi fatto giovedì del ladro no? e che poi alla fine va come invece deve andare come Dio vuole esatto da trono da tutta la Meghillah è un fuori programma esatto proprio così proprio così finiamo il commento siamo a metà alla 430 nella parte dei commenti l'ultimo dalla valle di Jevron eppure Jevron è situata su un monte è quello che ama la valle l'espressione deve però essere intesa metaforicamente la decisione di Akko di mandare Yosef dai suoi fratelli che l'avrebbero venduto come schiavo era la realizzazione della Etzah Amukah cosa vuol dire? riflessione profonda di Abraham perché Emek che vuol dire valle grazie Emek è valle allora Amok vuol dire profondo fa un gioco di parole col nome del posto riflessione profonda di Abraham figura strettamente legata a Jevron adesso qua spiega una cosa interessante e con questo finiamo la lezione per una sua mancanza ad Abraham fu data la possibilità di scegliere per i suoi discendenti che cosa? fra esilio o le pene dell'inferno egli Abraham dovete quindi riflettere profondamente finché scelse l'esilio perciò Hashem fece sì che Jacob mandasse Yosef dai fratelli e avessi inizio la discesa in Egitto il significato di questa riflessione era che le peripizie di Yosef avrebbero aperto la realizzazione della profezia di Hashem ad Abraham quale profezia i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra non d'ora questa che gli ebrei hanno sono finiti in Egitto è una cosa giocata a tavolino 400 anni prima Dio aveva già detto ad Abraham sappi che i tuoi figli andranno in diaspora non perché hanno peccato non perché no anni e anni prima già però l'ho capito perché cioè che dobbiamo scegliere fra le penne dell'inferno e la la diaspora cioè c'è tutta questa fortuna tutte insieme ho capito figurati se ci davano le penne dell'inferno nella diaspora Anna Goldstein voglio vedere il viso non ti ho mai visto sei sempre nascosta voglio vedere chi fa queste belle battute prima o poi bisogna rivelarsi dai Anna metti il video dai è purino è un problema sai cos'è la Anna è molto spirituale e anche molto spirituosa è un miscuglio tra tutte e due sì ma voglio vedere com'è fatta vabbè su quello non posso perciò questa cosa giocata a tavolino centinaia di anni prima già era già destinato che gli ebrei nassero in schiavitù in terra i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra non loro il nome della città si riferisce ad Avraham anche perché chevron è la contrazione delle parole chevron bell'amico di Hashem all'epoca che era Abramo inoltre Avraham era l'unico patriarca che era seppellito lì a chevron in base alla logica parebbe ovvio che Iacov non avrebbe dovuto mandare suo figlio Giuseppe da persone che lo amavano così poco non ha non ha logica che papà manda Giuseppe sapendo il rischio e gli avrebbe potuto infatti mandare da loro qualunque servo per informarsi sul benessere dei figli e del suo greggio perché doveva andare proprio Giuseppe gli mancavano persone da mandare il fatto che avesse invece mandato proprio Hashem il figlio prediletto dimostra che Hashem stava intervenendo per realizzare la profezia fatta ad Abramo ovvero Giacobbe sapeva che doveva esserci il galut la diaspora perché Abramo gli era stato detto ed era arrivato il momento perciò tutta la diaspora comincia qua quando Giuseppe viene venduto e mandato in Egitto in questo momento Giacobbe non sta a guardare che suo figlio Giuseppe suo figlio come si dice il figlio di carne sta in rischio di vita lui c'ha un disegno più largo Hashem vuole che cominci adesso il galut la mamma mia la diaspora la diaspora grazie allora se io mando Giacobbe se io mando Giuseppe è vero che è in pericolo ma solo quando loro lo venderanno potrà cominciare la diaspora e questo è quello che Hashem vuole io non posso andare contro la volontà di Hashem perciò so benissimo che mio figlio è in pericolo però questa è la volontà di Dio deve arrivare in Egitto che tutto il processo cominci ed è questo il motivo che contro ogni logica lui manda il figlio nella fossa dei leoni sapendo che i fratelli potrebbero fare del male perciò tutta questa storia qua va vista in un'ottica diversa il fatto che un fratello possa uccidere un altro fratello e così via e il papà lo manda proprio in bocca in pasto a leoni sono tutte delle cose che magari noi con il nostro modo di vedere umano è difficile da capire ma se lo vediamo dall'ottica divina che tutto questo doveva succedere allora c'è più facile capire tanti dettagli strani di questa storia ci fermiamo qua parola a voi prego chi vuole cominciare vi saluto ho un'altra lezione grazie per aver partecipato è la parasha dopo scritta scritta a modo suo ah la controllo ok ok grazie grazie ciao a tutte ciao ciao qualcuno vuole dire dottor Messina cosa dici oggi dottor Messina dov'è eccolo qua posso scusate in ritardo ma pensavo di non farcela ce l'ho fatta ma è molto interessante il discorso dei fratelli che vedevano diciamo così in bianco e nero mentre Yosef Sadiq vedeva colori simboleggiato anche dal Chitone Passino queste tonalità intermedie sono fondamentali cioè intendo dire qui la questione dell'apertura è l'apertura mentale non un'apertura normativa cioè noi se siamo aperti mentalmente non siamo aperti a violare l'alaka intendo dire apertura mentale e non apertura normativa in senso negativo perché bisogna secondo me avere sempre presente qual è lo spirito della norma pur rimanendovi aderenti e cioè rimanere un po' tra quello che è l'alaka e quello che è il midrash cioè questa via di mezzo tra d'altronde già mi ero sentito un'interessante lezione di un rabbino che diceva che già nel 400 italiano c'era questa linea di pensiero che interpretava la Torah quasi solo con l'alaka lo stesso commento di come si dice di Ovadia di Bertinoro alla Torah che è poco noto eccetera che si basava su Rashi su Rambam ma soprattutto sugli aspetti alachici perché d'altronde è una storia come storia va interpretata insomma io ricordo un episodio personale che mi ha molto colpito che non c'entra niente con una questione di Kedushan ma è molto significativo in questo momento insomma con questo concludo quando ero ufficiale medico così di servizio militare un sergente punì un soldatino scrivendo sul biglietto di punizione che ha messo nella bacheca del reggimento dice il soldato Tizio Caio è stato punito perché ha messo in ridicolo il regolamento militare applicandolo alla lettera ora secondo me questo è un insegnamento che vale per tutti i rami della vita insomma quando noi applichiamo alla lettera le cose senza capirne il significato rischiamo di fare delle cose che non sono quello che la norma vuole insomma ecco la norma ha un'anima dobbiamo andare a cercare qual è l'anima di questa norma la troviamo non solo nella ma anche nella gada insomma come dire bello di questo tipo ecco questo volevo dire dire purim sameach a tutti naturalmente grazie 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 qualcuno vuole ancora chiedere o dire qualcosa posso? certo certo ecco allora giustamente come diceva Salman anche la l'alaka va studiata ma perché va studiata se fosse un semplice se fosse un semplice elenco di norme basta applicarle invece non dico che vanno interpretate ma vanno proprio vanno proprio analizzate e sviscerate e sviscerando questo si vede che il comportamento poi è diverso a seconda delle a seconda dei casi infatti diceva esattamente Salman il fatto che metà l'alaka è metà è metà midrash quindi anche cioè anche la parte anche la parte aggadica della cosa è importante e da lì si deve imparare l'esatto comportamento non c'è niente di esatto l'unica cosa esatta è che venga Mashiach subito ecco quindi Purim Sameach a tutti grazie grazie allora brevemente ricordiamo le quattro misure che dobbiamo fare a Purim allora tanto per cominciare domani mattina c'è il digiuno e domani ancora è la vigilia di Purim poi abbiamo quattro mitzvot che vanno fatte di Purim la prima in ordine proprio cronologica è domani sera di sentire la Meghila Tester non via zoom o registrazione ok bisogna partecipare di fisico proprio lì dove si sente dove leggono la Meghila e questa è una mitzvah poi sempre la stessa mitzvah la rifacciamo anche durante l'arco del giovedì di sentire la Meghila la seconda volta non è che sono o una o l'altra va sentita una volta la sera del mercoledì e una volta nell'arco del giovedì poi la seconda mitzvah non c'è un ordine cronologico la seconda mitzvah è di scambiarsi di mandare ogni uomo a uomo ogni donna a una donna di mandarsi almeno due tipi di cibo diverso i regali non sono regali fisici ma cibo e devono essere due tipi di cibo già pronti da mangiare la terza mitzvah è di dare ad almeno due poveri almeno una moneta o due bossoli di etsdakah chi non ha poveri in città gli da in due mette da parte in due bossoli almeno una moneta e una moneta e poi abbiamo il banchetto nell'arco del giovedì bisogna come a shabbat fare una tirata daim mangiare del pane e fare un banchetto sontuoso e festoso mangiare un po' meglio del solito queste sono quattro misote che vanno fatte appunto tutte di giorno oltre alla meghillà che va fatta anche di sera ecco ma ad esempio io posso fare nel tirati daim fare a mozzi prima del tramonto di giovedì e poi una sera dopo pensando che assolutamente perché lei comunque ha già cominciato la saudade al momento che lei comincia a mangiare il pane lì comincia il pasto certo certo quindi anche se lo faccio di ferito ma basta farlo prima basta farlo entro il tramonto chiaro certo